Ecco, già ho doppio Broly con Beast, Kid da ruota, vabbè Vediamo Brolalo 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 Andate, nel senso che sono morto Vediamo quanto riusciamo a far Ma tanto se non crit non fanno altri di special cose strane, vedete, rip Cioè di Broly già non ha critato In sto turno dovete togliere almeno 3-4 barra di vita Ok, buono Bravo Broly Mio fratello Broly Lui se ne frega il cazzo della seconda fase che non può fare special Tanto Broly l'ho shotta prima Ecco a Beast non ha preso pugni Comunque 14 milioni Si potrebbe mettere qualcun altro che fa più special Ma comunque Brolalo te ne fa una Fatta bene, no? Ti tira pure l'AD Ma in realtà BBB è attivo Il problema è che Non si attiva BBB se non ci stanno dei BBB da attivare Cioè A meno che Gona non abbia BBB Non si può attivare avendo l'unico extreme è Kid, ma starlo da Vabbè io ho tolto 5 barra di vita Solo la prima fase Speedrun Ah i Blue Boys Pensavo BBB link Che poi è BBB Non è BB, vabbè Vabbè diciamo che ci arrivo nel secondo turno perché lo devo fare il secondo turno Vabbè ma è esploso Povero Cristo Vabbè Vabbè C'ha 3 barri di vita nel primo turno Ma che vuol dire? Ma è una memata sta roba Ma è per ride che si gioca Lo stiamo a fare per ride Ma sì Ma che ce ne fotte Ti ha un po' di setup per Vegeta qua Mi sa che Machinbu ci sta a fare il salutino Il salutino fascista ci fa No Vegeta non ha crittato Basta Per di Vegeta in questo momento E' quello più scarso del team Visto che ci vuole tempo per fargli fare più danno Vabbè Vabbè Ma fanno tutti i blue boys Su Amen In realtà pure se Fanno rimanere i kid con una barra vita Sti cazzo Poi ci pensa Goku Però Loro devono crittare Cosa che Gli viene molto semplice Vabbè Diciamo che Questo è per chi gioca al jump Vuole fare una speedrun Per il meme Ma sì Frate Per ride Ma che ce ne fotte Ma sì Vai Ma il kid lo sblocca l'evasione Qua proprio Bullismo Tutti i player che stanno bestemmiando Per fare i kid Non riescono a completare Che poi ho fatto pure una missione Power Beyond Credo Interior Sì Dovrebbero esserci pure tutti i Power Beyond Vabbè Questo era proprio per il meme